Ciao a tutti e benvenuti su PlayStation Plus News e partiamo con la sezione Sport. Questo inverno via libera all'adrenalina, punterete all'emozione del base jumping o del paracadutismo, non importa, potete sempre puntare nemici con Titanfall 2 e puntate anche gli occhi alle piste di Monster Energy Supercross The Official Video Game, motociclette mozzafiato, gare all'ultimo trick, ne vedrete delle belle, chi entrerà nella leggenda? E in arrivo anche avventure leggendarie grazie agli item esclusivi del PlayStation Plus Playpack di Apex Legends, due skin leggenda, due skin arma e due banner. Parlando di leggenda, entrate in quella di GTA The Diamond Casino Heist. Pronti alla sfida online? Vincere sarà un azzardo. Ma adesso è arrivato il momento dei saluti, alla prossima!